allora io questo genere di video tendenzialmente ho evitato di farli anche se sono modi di dire questi vengono dai vangeli sono religiosi poi non voglio che mi si dica che sto facendo catechismo di questo qua da religione vorrei evitare però me l'avete richiesto in un bel po di persone questo modo di dire quindi fatemi sapere nei commenti se vi urta o meno io cerco di essere molto apartitico in quanto argomenti da portare cerco sempre di variare di non fossilizzarmi su una zona su una mitologia e quindi di riflesso sulla religione che ha originato quella mitologia quindi fatemi sapere la vostra nei commenti oggi come leggete nel titolo parliamo del modo di dire buon samaritano per buon samaritano oggi intendiamo quella persona che senza alcun interesso secondo fine senza richiedere alcun pagamento si presta per aiutare a rimettere in piedi chiunque ne abbia bisogno chiunque ti salvi un momento di disperazione senza alcuna motivazione specifica viene definito essere un buon samaritano il buon samaritano è una figura presente nei vangeli nello specifico in una parabola che racconta gesù cristo per specificare in che senso un buon cristiano una buona persona dovrebbe amare il prossimo suo come se stesso e la storia prevede la presenza di un giudeo che viene attaccato da dei banditi derubato e lasciato morire ferito lì per terra che si incrocia con altre quattro persone che gli passano accanto e praticamente decidono di non salvarlo tranne l'ultima le prime tre sono i soliti nobili signori che sono ottimi religiosi ma che nei fatti non vogliono aiutare nessuno se non il loro portafoglio quindi mercanti aristocratici sacerdoti l'ultimo ad arrivare invece è un samaritano che a un giudeo ai tempi più che aiutarlo voleva sputarli in un occhio i samaritani infatti ai tempi rappresentavano una sorta di comunità eretica per la religione canonica ebraica e fra giudei e samaritani non correva affatto buon sangue se si potevano uccidere si uccidevano non farò altri commenti al riguardo quindi nella storia l'ottica era l'arrivo il samaritano sputa in un occhio al giudeo e se ne va invece il samaritano è un buon samaritano perché capisce che indipendentemente dal credo religioso e dal credo politico quell'uomo in difficoltà sta morendo quindi si carica l'uomo sulle spalle lo porta in un ostello lo cura e lo fa curare poi dai gestori di questo luogo a sue spese senza chiedere nulla in cambio essendo semplicemente mosso da umana compassione quindi da un eretico arriva l'esempio di essere un buon diciamo fedele un buon uomo in generale mettiamola così